L'allarme è scattato attorno alle 8 o meno 5 in via Genova all'apertura dei cancelli per l'accesso all'interno della scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele III ad Andrea. Due biglietti apposti all'esterno con cerotto rivendicavano la presenza di un ordigno ben nascosto all'interno dell'istituto. Nei biglietti anche chiari riferimenti a quanto accaduto a Trani due giorni fa con il ritrovamento di un borsone abbandonato nella stazione con all'interno ampolle piene di liquido e collegato un telefonino. Le scritte in stampatello e piuttosto imprecise hanno però fatto subito propendere per una bravata ma in questo momento l'attenzione è particolarmente alta e si è dunque deciso di usare il massimo principio possibile di precauzione. Nessuno studente è entrato nell'istituto e le famiglie sono state prontamente chiamate per riaccompagnare tutti gli alunni a casa. Un'altra sorpresa questa mattina che ovviamente getta un po' tutti nel panico e nello sconforto perché viviamo in una condizione di elevatissima tensione. Di fatto è un ulteriore gesto che sottolinea quanto fragili siano le condizioni sociali in cui ci troviamo a vivere in questo difficile tempo. Immediato l'arrivo sul posto degli uomini della questura di Barletta Andrea Trani con la polizia locale a transennare un'ampia area attorno all'istituto. Al lavoro anche gli artificieri giunti da Bari oltre ai cinofili, nessun segno di infrazione dall'esterno ma controllate precauzionalmente tutte le stanze della struttura compresi i tetti. Nulla è stato trovato. Sui biglietti apposti all'esterno della struttura invece al lavoro la polizia scientifica che ha effettuato tutti i rilievi alla ricerca di tracce importanti per individuare i responsabili. Si cerca anche tra le telecamere di videosorveglianza della zona anche se in via Genova all'esterno dell'istituto non ci sono apparecchi di ripresa. L'allarme è rientrato attorno alle 11.30. Sul posto anche il sindaco Giovanna Bruno, Carabinieri e Guardia di Finanza.